Lo sapevi che in lavastoviglie puoi lavare non solamente piatti bicchieri ma anche altre cose? Come ad esempio puoi mettere a lavare e igienizzare le spugne che utilizzi per i piatti. Puoi lavare e igienizzare anche i canovacci che utilizzi in cucina, ma non solo, puoi lavare le patate, sì, hai capito bene, puoi lavare alcuni tipi di frutta e verdura all'interno della lavastoviglie, i giocattoli dei tuoi bambini purché siano in gomma o plastica, i bavaglini dei tuoi bambini, puoi anche lavare le banane e non solo, puoi lavare e igienizzare spazzole e pettine. Inoltre puoi lavare le griglie del piano cottura che sono spesso grasse purché non siano in ghisa. Ecco tutto ciò che puoi lavare in lavastoviglie che non siano piatti bicchieri. Ciao!